È stata una domenica impegnativa per il soccorso alpino. Cinque interventi di fila ieri per la stazione del triangolo Lariano, diciannovesima delegazione. Alle dieci la centrale ha allertato i tecnici per un ciclista precipitato durante una manifestazione sportiva sul muro di Sormano. L'uomo avrebbe riportato una frattura del femore. I soccorritori lo hanno immobilizzato e recuperato dal torrente dove era precipitato. Sul posto anche una squadra del centro operativo del Bione e l'elicottero da Milano. In contemporanea è arrivata una seconda chiamata per un escursionista infortunato sulla strada carrozzabile che dalla colma di Sormano conduce al monte Palanzone. Una squadra già impegnata nel primo intervento si è messa a disposizione per trasferire i sanitari sul luogo del secondo incidente. Alle 12.20 mentre erano in rientro le squadre sono state inviate a Canso per soccorrere una donna che ha avuto un malore sul sentiero geologico. A supporto sono giunti altri tecnici della stazione del triangolo Lariano. La donna è stata imbarellata e trasportata a spalla fino a Valle dove nel frattempo è raggiunta l'ambulanza. Quarto intervento alle ore 14.50 in località Terzalpe per il recupero di un escursionista infortunato ferito a una caviglia. I tecnici lo hanno raggiunto con un fuoristrada. L'ultimo intervento è stato effettuato al rifugio Selve Pianezzo a Valbrona. I soccorritori hanno recuperato una donna che in una caduta si è infortunata al braccio sinistro. La donna è stata messa in sicurezza e portata fino all'ambulanza per il trasporto in ospedale. Grazie a tutti.